Ciao a tutti, amici di Vanilla. Oggi affronto un argomento controverso con un video abbastanza breve, una rapida spiegazione che tenta di basarsi soltanto sui fatti e non sulle opinioni personali. Qualcosa di molto didascalico, pensato apposta per non influenzarvi nelle conclusioni. Parliamo della madre di Adolf Hitler, si chiamava Clara Polzel, per tentare di capire la genesi dell'uomo che possiamo definire senza paura di smentita il più odiato del ventesimo secolo. Il testo l'ho scritto io e l'ho tenuto asciutto, per chi volesse fare ulteriori ricerche trova tantissime informazioni non solo sul web ma anche in diverse biografie di Hitler. Se invece volete vedere il tutto da un punto di vista particolare vi consiglio di leggere Genesis and Catastrophe e True Story di Roald Dahl, pubblicata per la prima volta su Playboy e poi nel suo libro raccolta Kiss Kiss del 1960. Vi lascio il link in descrizione. Prima di vedere la storia di Clara Polzel, un piccolo appello. Se ancora non sei dei nostri su Vanilla, clicca il tasto iscriviti. Non costa nulla e aiuti il nostro progetto di divulgazione culturale. E ora, cominciamo! Clara Polzel nacque il 12 agosto del 1860 nel villaggio di Vaitra, nell'allora Impero Austriaco. Lei ancora non lo sapeva, ovviamente, ma era destinata a diventare la madre di uno dei dittatori considerati fra i più brutali della storia, Adolf Hitler. Suo padre si chiamava Johann Baptist Polz e sua madre Johanna Hedler. Quando Clara era ancora adolescente, andò a lavorare come domestica per Alois Hitler, suo cugino di secondo grado. Vista la giovane età e visti i 23 anni in più di Alois, Clara non gli si rivolgeva come a un cugino, ma come a uno zio appellativo che utilizzava quotidianamente. La vita fra le mure a casalinga non doveva essere priva di incroci amorosi, poco graditi, all'amante di Alois Hitler, Franziska Metzelberger, che nel 1880 fece allontanare Clara dalla casa. Franziska, che era stata la causa del divorzio della prima moglie, Anna Glassel, sposò Alois nel 1882, un anno dopo la nascita di Alois Junior. Pochissimo tempo dopo, attorno alla fine del 1883, accadde l'inaspettato. La 23enne Franziska si ammalò e Clara fu richiamata al servizio degli Hitler. In breve tempo la ragazza rimase incinta. Nel 1884, alla morte di Franziska, Alois decise di sposare Clara, che però era sua cugina di secondo grado. Decisi a unirsi in matrimonio, i futuri coniugi chiesero prima il permesso alla chiesa locale di Linz, la quale lo legò, e fu solo per la dispensa del Vaticano che Clara riuscì a diventare la signora Hitler. Clara rimase incinta sei volte, ma la sua vita da madre fu costellata di lutti. Il primo a nascere fu Gustav, che morì a due anni e sette mesi, poi venne Ida, che morì a un anno e quattro mesi, e in seguito Otto, che perì dopo tre giorni di vita. Tutti i piccoli rimasero uccisi nel giro di brevissimo tempo a causa della difterite. Un anno dopo la morte di Otto, il 20 aprile del 1889, nacque Adolf. Dopo di lui nacque un altro bambino, Edmund, morto in seguito di Rosolia, e nel 1896 Paola, l'unica sorella naturale di Adolf, sopravvissuta. Nonostante la mortalità infantile fosse una piaga assai comune durante l'Ottocento, è facile immaginare quanto questi lutti avessero provato Clara. Alcuni psicologi sostengono che il primo anno di relazione fra il bambino e la madre è fondamentale per lo sviluppo della personalità, con il bambino che assorbe le emozioni della madre a livello inconscio. Clara, sopraffatta dall'ansia e dalla paura della morte precoce dei suoi figli, forse trasmise i propri sentimenti al piccolo Adolf, emozioni in grado di infliggere un duro colpo alla psiche di un bambino. Per comprendere la strana situazione familiare, è bene specificare che Clara continuò probabilmente a chiamare Alois zio e fece da madre acquisita ad Alois Junior, poi morto nel 1956, e ad Angela Franziska Johanna, che morì nel 1949, fratelli per parte di padre di Paola ed Adolf. Durante il periodo della crescita Adolf fu sottoposto a frequenti pressioni e umiliazioni da parte del padre e, secondo alcune fonti, lo picchiava senza ritegno. Un comportamento che si acquì dopo che il fratellastro Alois Junior scappò di casa, esasperato dal dispotico atteggiamento paterno. Le ambizioni di Alois Hitler per il figlio erano tutte volte al mantenimento della sua carica pubblica come funzionario doganale. Egli avrebbe voluto che Adolf seguisse le sue orme e lo spinse a frequentare scuole adatte allo scopo. Per tutta risposta il futuro dittatore smise di proposito di studiare, ottenendo pessimi risultati scolastici. Ma quel rapporto era destinato a finire presto. La mattina del 3 gennaio 1903 Alois Hitler morì inaspettatamente, liberando la famiglia da un fardello insostenibile. Poco tempo dopo la morte del padre, Clara, Paola e Adolf si trasferirono a vivere nella città di Linz, in Austria, senza la necessità di lavorare grazie alla rendita che Alois aveva lasciato alla donna. Il giovane Adolf Hitler, nonostante la morte liberatrice, se così possiamo definirla del padre, peggiorò ulteriormente il rendimento scolastico, tanto che nel 1905 la madre gli permise di interrompere gli studi. Il ragazzo trascorreva il proprio tempo impegnato nella lettura di libri, nel disegno e nello studio delle belle arti. Vista la sua passione per l'arta, Clara lo sostenne nella sua decisione di trasferirsi a Vienna, dove sperava di emergere come pittore. Quegli anni furono brevi, ma intensi. Nel 1907 Clara subì una difficile operazione di asportazione di un cancro al seno. Adolf decise comunque di andare a Vienna per sostenere l'esame di ammissione all'Accademia di Belle Arti, dove, ma questa è cosa nota, non riuscì a entrare. Dopo quel fallimento tornò a casa, a Linz, per prendersi cura della madre morente. Clara lottò contro la malattia, ma all'inizio del Novecento il cancro era ancora un male praticamente incurabile. L'uso della chemioterapia sperimentale le paralizzò la gola e le fece patire sofferenze inimmaginabili, oltre a martoriarla con la perdita della capacità di deglutire. Il trattamento medico fu inutile. Clara Polzel Hitler morì il 21 dicembre 1907 all'età di 47 anni, soltanto quattro anni dopo il marito. Adolf Hitler, affezionatissimo alla madre, rimase devastato dalla sua morte. Il medico di Clara, Edward Bloch, ricordò, non ho mai visto nessuno così prostrato dal dolore per la perdita della madre come Adolf Hitler. Nella Bibbia del nazismo, il Mein Kampf, Hitler scrisse che la morte di sua madre fu un terribile colpo. Il dottor Bloch era ebreo, ma in segno di gratitudine per essersi preso cura di Clara, Hitler permise a lui e alla famiglia di emigrare dall'Austria negli Stati Uniti nel 1940, quando ormai le frontiere erano chiuse. Fino a quel momento non solo il dottore aveva potuto continuare ad esercitare la professione, ma era anche stato esentato dal mostrare la stella di David. Adolf Hitler lo descrisse così. Il dottor Bloch è un Edeljude, un nobile ebreo. Se tutti gli ebrei fossero come lui, non ci sarebbe nessuna questione ebraica. In definitiva, gli fu grato a vita per il lavoro che aveva fatto con sua madre. Dopo essere diventato Führer del Terzo Reich, Hitler decretò che nella data del compleanno di Clara, il 12 agosto, si festeggiasse il giorno d'onore della madre tedesca. Il ritratto della donna venne appeso nello studio privato del dittatore e la sua fotografia era sempre nel taschino della giacca dell'uomo. Il 30 aprile del 1945, quando Hitler si suicidò nel bunker di Berlino, la foto di Clara era accanto a lui. Grazie per la visione!